Non molto tempo fa continuavo a sentire persone dire che uno era una capra. Dicevano, quella persona è una goat, questa è una capra, e ho pensato, non è una cosa molto carina, perché nella Bibbia c'è la parabola della pecore e della capra, e le capre sono perdute mentre le pecore si salvano. Poi qualcuno mi ha detto che ero vecchio, fuori moda, perché goat in realtà è un acronimo di Greatest of All Times, il più grande di tutti i tempi, e quindi era un complimento per quella persona. Se si vuol dire che uno è il più grande di tutti i tempi, si dice che è un goat, e vorrei parlarvi di un goat nella Bibbia. Sapete, Gesù, come avete sentito nella lettura delle scritture, ha detto che tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista. Ovviamente quando Gesù fa un'affermazione del genere, chiaramente esclude se stesso, perché Cristo è un profeta. La Bibbia dice che non c'era stato uomo più saggio di Salomone, ma questo escluso Cristo. Penso che sia chiaro a tutti. Ma nelle prossime due o tre settimane studieremo la vita incredibile di un uomo incredibile e il motivo per cui Gesù ha detto quello che ha detto, e impareremo come si applica a noi oggi. Un motivo per cui Giovanni Battista è chiamato il più grande tra i profeti è che ci sono pochi profeti di cui si profetizza la venuta nella Bibbia. Tra le profezie di un profeta in arrivo riesco a pensare solo a due. Uno è Gesù, ci sono profezie sulla venuta di Gesù, ma ci sono anche profezie su Giovanni Battista. E Giovanni Battista non solo è un profeta, ma è anche il tema di una profezia. E questo non capita molto spesso. Fatemi fare qualche esempio. Isaia 40, versetto 3. La voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via dell'Eterno. Raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. Giovanni Battista, quando iniziò a predicare, gli dissero chi sei tu? E rispose, non importa chi sono io, sono solo una voce. Sono una voce che vi dice di prepararvi per la venuta finale. Chi è la venuta di Dio in persona, di Dio incarnato in Gesù. E disse, sono venuto a prepararvi per questo. E andò nel deserto per farlo. Ora, forse dovrei fare una pausa e spiegare meglio quello che diceva. Nei tempi antichi, quando i re viaggiavano, soprattutto se erano in un viaggio reale e facevano un giro nei loro possedimenti, c'era un gruppo di persone che lo precedeva sulla strada. Perché spesso il re era sulla carrozza e avevano il compito di sistemare la strada e renderla più liscia, abbassando i punti più alti e colmando i vuoti, rendendo la strada più liscia per il re. Quindi questo è il linguaggio a cui allude Giovanni Battista e il profeta Isaia, parlando della missione di preparare la strada per il re. Malachia, capitolo 3, versetto 1. Se andate a Malachia, ci sono due profezie su Giovanni Battista. Malachia 3, versetto 1. Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me. Chi parla qui? Beh, Dio. Dio chi? Dio figlio, Gesù. Dice, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me. Qui è Cristo che dice una profezia sulla venuta di Giovanni Battista. Questo lo rende un profeta speciale. Preparerà la via davanti a me e subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo tempio. L'angelo del patto in cui prendete piacere ecco verrà. È chiaramente una profezia messianica. Poi guardate in Malachia, capitolo 4, versetto 5. È l'ultima profezia nell'Antico Testamento. Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno. Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché non venga a colpire il paese di completo sterminio. E poi Gesù dice, e ci arriveremo dopo, dice che lo capiremo, che Giovanni Battista è il compimento dell'Elia che sarebbe venuto. Ma Cristo lo chiarisce in Matteo 17, che non è l'unico compimento. Questo probabilmente sarà il tema del nostro studio della prossima puntata, ma vi dico cosa vi racconterò. Così come Eliseo ricevette la doppia porzione dello spirito di Elia, Giovanni Battista, secondo l'angelo, venne con lo spirito e la potenza di Elia. Ma qui, in questa profezia, vedrete che Malachia dice, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno, ancora nel futuro. Gesù ha detto, quando gli avevano chiesto della venuta di Elia, Gesù aveva detto, vi dico che Elia verrà. Ed Elia è venuto. È venuto con Giovanni e verrà. Impareremo quindi da Giovanni Battista cosa aspettarci in questo futuro Elia o nei futuri Elia. Quindi, se volete saperlo, continuate a venire. Un'altra delle cose che noterete è che quando l'angelo Gabriele venne ad annunciare la nascita di Giovanni Battista, siamo a Luca 1, 16, Luca 1, versetti 16 e 17, dice che convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio, e andrà avanti a lui nello spirito e potenza di Elia. Gli viene chiaramente detto dall'angelo che Giovanni Battista, quel bambino, sarebbe andato davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia e che sarebbe stato perlomeno parte del compimento. Ma lo dice in modo diverso da Malachia. Dice per ricondurre i cuori dei padri verso i figli. in Malachia sono i figli verso i padri. E qui Gabriele dice, e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto. Ora, ci aspettiamo che il Signore venga di nuovo? Qui Israele era molto entusiasta per la prima venuta del Signore ed è successa una cosa speciale per prepararli alla prima venuta del Signore. Ha senso secondo voi che se Gesù tornerà di nuovo, non come agnello ma come leone, Dio farà in modo che il suo popolo faccia un'opera speciale per preparare le persone alla seconda venuta del Signore? Quindi, se guardiamo la vita di Giovanni Battista e sapendo qualcosa di Elia, dovremmo sapere cosa dovremmo fare ora? Far rivolgere i cuori dei padri verso i figli e i cuori dei figli ai padri. Gabriele l'ha detto in modo diverso, perché penso che spesso lo predichiamo come se si trattasse della riconciliazione familiare, che è una cosa fantastica che i padri e i figli vadano d'accordo. Ma parla degli insegnamenti dei padri che tornino agli insegnamenti dei tempi antichi. È come quando la Bibbia dice di tornare alla fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Ci sarà la restaurazione della verità, sarà riparata la spaccatura che era stata fatta. Ed è quello che è successo. Il cristianesimo si è allontanato così tanto dai fondamenti stabiliti dagli apostoli, da Gesù stesso. Quindi, per farla semplice, si può parlare di cinque cose che hanno a che vedere con Giovanni Battista. La sua nascita, il suo comportamento, il suo coraggio, il suo battesimo e la sua schiavità. Ok, la sua nascita. Andate con me a Luca capitolo 1, versetto 5. Avete la Bibbia? Leggeremo un pezzetto, quindi per favore andateci se avete la Bibbia. So che qualcuno ha la versione cartacea a vecchio stile, alcuni hanno la Bibbia digitale, ma indipendentemente da che dispositivo avete, vi invito ad andarci con me. Ora, voglio che capiate perché è importante studiare Giovanni Battista. Ovviamente è il periodo della grande transizione nella vita della prima venuta di Gesù, ma nel Vangelo di Marco si parte con Giovanni Battista. È come un tuono che viene dall'oceano come una balena. Boom! Giovanni Battista compare sulla scena. Non c'era un profeta da 400 anni e all'improvviso era arrivato quel profeta che aveva ribaltato sottosopra la nazione. Se andate al Vangelo di Giovanni, inizia con Giovanni Battista. Eccoci a Luca. Luca fa un passo indietro. Parla della nascita di Giovanni Battista, non solo del suo ministero. E quando si arriva a Matteo, capitolo 3, parla di Giovanni Battista. Giovanni Battista è un personaggio storico molto reale. Quindi Luca introduce la sua lettera a Teofilo e dice nel versetto 5, Luca capitolo 1, versetto 5, ai giorni di Erode, re della Giudea, era Erode il grande, quello che aveva provato a uccidere tutti i bambini di Betlemme. Aveva fatto un bellissimo lavoro costruendo il Tempio. È incredibile che se si è impegnato a contribuire alla costruzione del Tempio ebraico ne poi abbia cercato di ammazzare il Messia, che è il fulcro del Tempio. Ai giorni di Erode, re della Giudea, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. Sua moglie era discendente da Aronne. Notate che sia Zaccaria che Aronne erano collegati alla tribù di Levi. E anche di più, la famiglia di Aronne era nella tribù di Levi e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti agli occhi di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e le leggi del Signore. La Bibbia ci dice che Giobbe era un uomo perfetto, giusto? Qui c'è un altro esempio di persone che camminavano davanti al Signore irreprensibili. Come si legge nella storia, non vuol dire che fossero perfetti, è chiaro il significato. Vuol dire che vivevano vite devote. Vivevano senza rimproveri. Se fossero stati seguiti da delle spie, non avrebbero trovato nulla. Erano persone pie, coerenti. Non vuol dire che fossero senza peccato. Quindi qui abbiamo un sacerdote con la moglie, ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile ed entrambi erano già avanzati in età. Sappiamo già dove andremo a finire. Ci viene detto che avevano problemi ad avere figli. Zaccaria vuol dire Yahweh è conosciuto. Elisabetta, il nome, vuol dire giuramento di Dio. Anche i loro nomi avevano un significato profetico. Quindi avevano problemi ad avere figli. Non arrivavano. Ora avvenne che mentre Zaccaria esercitava il suo ufficio sacerdotale davanti a Dio nell'ordine della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte, tiravano a sorte per capire chi facesse cosa durante le feste, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per bruciare l'incenso. Intanto l'intera folla del popolo stava fuori in preghiera nell'ora dell'incenso, quindi era nel luogo santo, davanti all'altare dell'incenso. Sapete, era al centro, proprio davanti al vero, e dall'altra parte del velo c'era l'arca del patto. Ma questa volta non c'era l'arca, perché era stata nascosta e non più ritrovata quando avevano ricostruito il Tempio. stava quindi pregando davanti all'altare dorato dell'incenso, facendo il suo compito. E fuori pregava tutta la folla. Allora un angelo del Signore gli apparve, stando in piedi alla destra dell'altare dell'incenso. È un segno di favore o di approvazione. Al vederlo, Zaccaria fu turbato e preso da paura. Ma l'angelo gli disse, non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Non aveva pregato solo per un figlio, aveva pregato per la venuta del Messia. Probabilmente avevano pensato che a quel punto l'idea di avere un figlio fosse finita. Non sarebbe successo. Gli disse che la sua preghiera era stata esaudita, ma entrambe le preghiere erano collegate. La venuta del Messia e il fatto che avessero un figlio erano collegati. Disse, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio al quale porrai nome Giovanni. Ed egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà grande. Ecco qui, Giovanni Battista il Grande, davanti al Signore, non berrà né vino né bevande inebrianti. Cosa ci dice di Giovanni? Chi altro ha ricevuto quelle istruzioni alla nascita? Samuele, Sansone, si chiama il nazireato, si trova nel libro dei numeri. Giovanni Battista sarebbe stato un nazireo. Nei quadri che ho visto, Giovanni Battista aveva i capelli da Marin, ma non sono biblici. Non poteva essere toccato da nessun rasoio, non solo non doveva mangiare nulla della vita, ma doveva essere cresciuto come nazireo. E una delle cose che si notano studiando la vita di Giovanni è che non si sente mai parlare della Signora Battista. Forse non voleva fare lo stesso errore di Sansone, quindi visse come un eremita, visse come un bachelor, che in inglese vuol dire scapolo. Scusate, non potevo farne a meno. In una grotta nel deserto. A ogni modo, non poteva bere né vino né bevande inebrianti. E sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Notate il contrasto, bevande inebrianti sono un altro tipo di spirito. Non ha bevande inebrianti, ma ha lo Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. È stato battezzato nello Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. E convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio, uno dei motivi chiave della sua grandezza. Cosa fa? Converte molti a Dio. E andrà davanti a Lui nello Spirito e potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo, da che cosa conoscerò questo? Poiché io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. E l'angelo rispondendo gli disse, io sono Gabriele, che sto alla presenza di Dio. Vi immaginate di parlare a qualcuno che sta alla presenza di Dio Onnipotente? E sono stato mandato per parlarti. Non è bello sapere che Gabriele, per nome, aveva parlato a Daniele 500 anni prima e non era invecchiato minimamente. Sarà bello avere quel corpo glorificato, no? Io sono Gabriele, che sto alla presenza di Dio e sono stato mandato per parlarti e annunziarti queste buone novelle, buone notizie. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, il contrario di Maria che aveva detto, ecco l'ancella del Signore. Aveva accettato la parola di Dio. Zaccaria aveva detto, oh no, come può succedere? Non doveva saperlo. Non aveva letto nella Bibbia di altre persone che erano in là negli anni ma avevano avuto figli, come Abramo o la donna sunamita. Sapete, ci sono sette esempi al tempo di Giovanni, incluso Giovanni, di donne sterli che ebbero miracolosamente bambini. Ho un piccolo fatto strabiliante per voi. Sapete qual è l'età della donna più vecchia al mondo che ha avuto un figlio in epoca moderna? 74 anni. Mi pare che abbiamo una foto sullo schermo da farvi vedere. Questa donna indiana di 74 anni, lei e il marito erano stati praticamente ostracizzati dal villaggio perché non avevano avuto figli e andarono a supplicare il medico. Il medico disse che erano sani e che sarebbe diventata una notizia bomba. Quindi l'uomo e la donna, con una fecondazione in vitro, ebbero due gemelle. Entrambe sane. Penso siano nate con un cesareo. La donna più anziana in tempi moderni è nel libro del Guinness dei primati. Ad avere, vorrei bloccare questo momento perché ho notato che tutte le donne sono attente. La donna più anziana che abbia avuto un figlio in modo naturale aveva 59 anni. È sullo schermo, si chiama Dawn Brooke. Si era sposata un po' avanti negli anni e non aveva in programma di avere figli. Ma rimase incinta. E non ne fu molto felice a dire la verità. Uno shock. Pensava di avere un tumore. Andò dal dottore e lui le disse ho una buona notizia. Lei rispose sì, magari è una buona notizia per lei, ma a 59 anni ebbe un figlio. Quindi ci sono sette esempi nella Bibbia. Sara ebbe Isacco, che fu un miracolo. Rebecca era sterile. Isacco pregò per lei ed ebbe Giacobbe ed Esau. Rachele era sterile. Giacobbe pregò per lei ed ebbe Giuseppe e più tardi Beniamino. Non conosciamo il nome, ma la moglie di Manoa era sterile. Arrivò un angelo ed ebbe Sansone. Anna era sterile. Pregò ed Elie le disse che avrebbe avuto un figlio ed ebbe Samuele. Poi ci fu una donna su una mita. Eliseo disse, pregò per lei ed ebbe un figlio. Infine la settima coppia sono Zaccaria ed Elisabetta, che ebbero un miracolo. Ogni miracolo elencato nella Bibbia è una nascita miracolosa da una donna teoricamente sterile. Tutte ebbero figli maschi, perché ciascuno di quei bambini è un modello di Cristo. Se guardate ciascuno di loro lo potete vedere nella storia. Quindi l'angelo disse che avrebbero avuto un figlio. E ovviamente furono molto felici per la notizia. Torniamo al nostro testo di Luca e continuiamo a leggere. Dice che sarebbe diventato muto fino a che queste cose non si fossero adempiute. Le persone, versetto 21, Luca capitolo 1, versetto 21, intanto il popolo aspettava Zaccaria e si meravigliava che egli si trattenesse così a lungo nel tempio. Iniziavano a preoccuparsi che magari avesse avuto un attacco di cuore. Ma quando uscì non poteva parlare loro. Allora essi compresero che egli aveva avuto una visione nel tempio. Egli faceva loro dei ceni, ma rimase muto. Cercava... ma non riusciva a dire nulla. E probabilmente aveva gli occhi sgranati, la faccia brillava e pensavano avesse avuto una visione. E avvenne che quando furono compiuti i giorni del suo servizio, aveva finito il suo lavoro, egli ritornò a casa sua. Ora, dopo quei giorni, sua moglie Elisabetta concepì. Avevano collaborato al piano di Dio e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva, ecco cosa mi ha fatto il Signore nei giorni in cui ha volto il suo sguardo su di me. Non si nascondeva per l'imbarazzo, ma... perché c'erano i paparazzi che volevano saperne di più. Ma ne era molto felice per rimuovere la mia vergogna tra gli uomini. Ora qui non entreremo nel dettaglio, ma nell'intervallo ovviamente l'angelo andò da Maria. E questo è il tema di un messaggio futuro. Andate al versetto 39 di Luca capitolo 1. Dopo aver scoperto di essere incinta, ora, in quei giorni, Maria si levò e si recò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda. Ora Maria è evidentemente l'angelo. Per essere sicuro che capisse, le aveva detto, Elisabetta, tuo parente. Elisabetta era imparentata con Maria. Cosa voleva dire? Per Giovanni Battista e Gesù. Che anche loro sono parenti. non ci viene detto esattamente come. Alcune tradizioni forse dicono che Maria aveva un fratello che in qualche modo aveva sposato una figlia di Aronne, ma chiaramente una della tribù di Levi. E Davide viene da quale tribù? Giuda, Maria ed Elisabetta, quindi, avevano famiglie che venivano principalmente da tribù diverse, ma attraverso qualche matrimonio erano imparentate. E l'angelo ne parla. Maria vuole sapere cosa vuol dire avere un bambino miracoloso e quindi va a trovare la cugina, forse la zia, Elisabetta. Versetto 39. Maria si levò e si recò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Elisabetta a quel punto era incinta di sei mesi, vedrete. E avvenne che appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le sobbalzò nel grembo, ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo, ed esclamò a gran voce, dicendo, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo. E perché mi accade questo, che la madre del mio Signore, Elisabetta, sapeva che Maria avrebbe avuto il Messia? Sì, che la madre del mio Signore venga a me, poiché ecco, appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, il bambino è sobbalzato di gioia nel mio grembo. Cosa aveva detto l'angelo? Che sarebbe stato pieno di Spirito Santo dal grembo. Pieno di Spirito. Una nuova nascita. Non voglio dire molto a riguardo, ma non posso farlo passare senza dire nulla. Chiaramente, né Maria né Elisabetta avevano del tessuto fetale inutile. Avevano una vita umana, una vita umana piena dello Spirito di Dio, fatta a immagine di Dio. E quindi spero che sia chiaro a tutti che il concepimento è un momento in cui accade qualcosa di sacro e nasce la vita umana. Non c'è nessun altro istante in cui si possa vedere lo stesso. Quindi, ora beata è colei che ha creduto. Elisabetta sta dicendo che Zaccaria ha avuto dei dubbi e per questo era muto. Beata è colei che ha creduto, perché le cose dettele da parte del Signore avranno compimento. Poi Maria prosegue e recita la sua preghiera. Passate al versetto 57 capitolo 1. Luca ha scritto il capitolo più lungo di tutti i Vangeli. Non so se lo sapete. Ora giunse per Elisabetta il tempo di partorire e diede alla luce un figlio. I suoi vicini e i parenti, udendo che il Signore le aveva usato grande misericordia, si rallegrarono con lei, come l'angelo aveva detto che sarebbe accaduto. E avvenne che nell'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino. E intendevano chiamarlo Zaccaria, col nome di suo padre. Ma sua madre intervenne e disse no, si chiamerà invece Giovanni. Ed era quello che le aveva detto Gabriele. Il nome era stato scelto. ed essi le dissero, non vi è alcuno nella tua parentela che si chiami con questo nome. Così comandarono con cenni a suo padre come voleva che lo si chiamasse. Egli allora chiese una tavoletta. Gli portarono un iPad e vi scrisse, il suo nome è Giovanni. Non disse parliamone, facciamo un'estrazione. Disse, l'angelo l'ha deciso, viene da Dio. Il suo nome è Giovanni. Giovanni. Ora, qualsiasi nome nella Bibbia vuol dire qualcosa e il nome Giovanni vuol dire Yahweh ha usato misericordia. Esalta, il Messia parla della grazia di Dio. E quando annunciò che il suo nome era Giovanni, si dice che una volta che ebbe acconsentito a quello che aveva detto l'angelo, immediatamente gli si è aperse la bocca. Versetto 64. E tutti si meravigliarono. E la sua lingua si sciolse e parlava benedicendo Dio. E tutti i loro vicini furono presi da timore. E tutte queste cose erano divulgate per tutta la regione montuosa della Giudea. E tutti coloro che le udirono le riposero nel cuore loro, dicendo, chi sarà mai questo bambino? E la mano del Signore era con lui. Ora, sapete, lasciate che vi legga anche questo. Non mi piace saltare questa preghiera piena di spirito del Padre. E Zaccaria, suo padre, fu ripieno di Spirito Santo e profetizzò. Quindi qui abbiamo un'altra profezia su Giovanni, prima dell'inizio del suo ministero. Abbiamo visto le profezie dell'Antico Testamento e ora c'è il Padre che profetizza. Benedetto sia il Signore Dio di Israele perché ha visitato e compiuto la redenzione per il suo popolo e ci ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide, suo servo, come egli aveva dichiarato per bocca dei suoi santi profeti fin dai tempi antichi, perché fossimo salvati dai nostri nemici. C'è tutto il Vangelo in questa preghiera. Perché fossimo salvati dai nostri nemici e dalle mani di tutti coloro che ci odiano per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, il giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, per concederci che liberati dalle mani dei nostri nemici lo potessimo servire senza paura, in santità e giustizia davanti a Lui tutti i giorni della nostra vita. E tu, o piccolo bambino, ecco la profezia, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei loro peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio per cui l'aurora dall'alto ci visiterà per illuminare quelli che giacevano nelle tenebre e nell'ombra della morte per guidare i nostri passi nella via della pace. Qui c'è il Vangelo. Intanto il bambino cresceva e si fortificava nello spirito e rimase nei deserti fino al giorno che egli doveva manifestarsi a Israele. Ora, ce lo dice solo per farci sapere che non è andato in seminario, è andato nel deserto. Giovanni Battista, come Gesù, ricevette insegnamenti dai suoi genitori, da sua madre e da suo padre. Ovviamente dal sacerdote Zaccaria e la figlia di Aaron e Elisabetta conoscevano le scritture. Se guardate le loro preghiere, si vede che citano le scritture. Giovanni Battista fu pieno di conoscenza del mondo. Qualcuno si è chiesto, quando sono stati trovati i rotoli del Mar Morto nel deserto, nella parte meridionale del Giordano dove incontra il Mar Morto, c'era una comunità di Esseni, una setta molto impegnata di ebrei credenti che aspettavano il Messia e copiavano le scritture, le custodivano con cura, le nascondevano nelle grotte in modo che non furono distrutte dalla conquista romana. Preservarono la parola e battezzavano le persone. C'erano dei battisteri. Se siete mai stati a Masada e avete guardato queste comunità, praticavano questi lavaggi sacri. Qualcuno si è chiesto se Giovanni non sia magari entrato in contatto con loro e... non so, forse sono solo supposizioni, non c'è nulla nella Bibbia che lo dice, ma fu in quelle zone e rimase nel deserto fino al giorno della sua comparsa. Ora, abbiamo detto molto sulla sua nascita. Ora voglio parlare un po' di quando è vissuto. Andiamo al Vangelo di Luca, capitolo 3. Vedremo il suo comportamento. Guardate come Luca comincia questo capitolo. Si sta preparando a introdurre il ministero di Giovanni. Or nell'anno quindicesimo del regno di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode, tetrarca della Galilea, suo fratello Filippo, tetrarca dell'Iturea e della regione della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, non c'è nessuno storico, da nessuna parte, meglio di Luca. Luca fissa il momento in cui Giovanni Battista inizia il suo ministero, dicendo chi è a capo di Roma, chi erano i governanti, i governanti civili di Israele, chi erano i capi religiosi. C'è solo un momento nella storia in cui tutte queste vite, e ci sono bravi storici, alcuni imperatori romani, Pilato, il sommo sacerdote ebraico, e quando furono al potere, sia Giuseppe e Flavio che altri hanno fatto commenti al riguardo. Quindi possiamo dire con una certa accuratezza quando Giovanni iniziò il suo ministero, e fu circa il 26 d.C., forse un pochino prima, perché ha vissuto nel deserto e non sappiamo esattamente quando ebbe la chiamata profetica, ma improvvisamente iniziò a predicare. Qualcuno era andato a prendere dell'acqua del Giordano e aveva trovato questo tipo con indosso pelle di cammello. Non sappiamo cosa voglia dire, se aveva abiti tessuti di pelo di cammello. Alcuni cammelli hanno un pelo lungo, si chiamano cammelli alpaca. Me lo sono inventato. Ma fanno parte della stessa famiglia. potevano essere fatti di pelle di cammello e mangiava locuste e miele, e aveva capelli lunghi. Si era messo in piedi e aveva iniziato a predicare che stava arrivando il regno di Dio e che bisognava rabbedersi. Ed era così potente in quello che diceva. Parlava della venuta del Messia ed era in un tempo in cui le persone avevano difficoltà sotto l'oppressione di Roma e non vedevano l'ora che arrivasse il Messia. Si volevano preparare a far partire una ribellione. E qualcuno disse, avete visto quel tipo strano vicino al fiume? Un altro andò a vedere e iniziò a predicare, a commuovere il loro cuore, pentitevi dei peccati. Sapeva esattamente di che peccato parlare. Era un profeta. E indicava i peccati specifici di ciascuno. E loro lo dissero agli altri. E per la conoscenza della sua predicazione e per le persone che decisero di seguirlo e di diventare i suoi discepoli, fecero sì che iniziasse un risveglio nel paese. E oltre a predicare, battezzava. Ma ci arriveremo tra un attimo. Quindi ci viene indicato un modo molto accurato quando fu il momento in cui iniziò il suo ministero. Probabilmente nel 26 d.C. entrò davvero in scena, proprio come un tuono. E poi racconta il suo comportamento. Leggiamo in Luca 1,15. Dice, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande inebrianti, ci viene detto che era nazireo. E sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Era forte, aveva una costituzione robusta, andò nel deserto. Matteo 3, versetto 4. Or Giovanni stesso portava un vestito di peli di cammello e una cintura di cuoio intorno ai lombi e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Ogni volta che lo leggo, mi piace davvero Giovanni Battista, ma faccio una smorfia ogni volta che leggo che mangiava le cavallette. Beh, qualcuno una volta mi ha detto che c'era un carrubo che cresceva nel paese che si chiamava il pane di San Giovanni, perché in realtà non mangiava le cavallette ma i baccelli di carrube. Questo mi ha fatto stare molto meglio. Ma devo essere sincero con voi, amici, perché l'ho studiato e praticamente non ci sono prove che mangiasse baccelli di carrube. Temo mangiasse davvero cavallette. Ma si legge in Levitico 11, 20, 22 che si potevano mangiare le cavallette. Ora, né le locuste né le carrube sono disponibili tutto l'anno. Penso che una cosa sia più facile da conservare dell'altra. Ma sapete, ho fatto un po' di ricerca ieri e le Nazioni Unite hanno incoraggiato la gente a mangiare più insetti. Non solo perché sono nutrienti e sani, sono un'alternativa sana alla carne, ma perché gli insetti producono meno gas effetto serra rispetto alla maggior parte degli animali da allevamento e questo aiuterebbe con il riscaldamento globale. Mangiamo più insetti. Ma è vero che le cavallette sono molto comuni. In Messico le mangiano, in Africa le mangiano. E in Medio Oriente non si può mangiare nessun insetto tranne le locuste e i grilli e la famiglia delle locuste. E dicono che siano piene di vitamine, riboflavina e fibre. Ci sono più grasse rispetto alla maggior parte delle carni. Non sto cercando di persuadervi, sono vegano, non lo farò, ma sto solo dicendo che il motivo per cui ci viene detto non è perché erano l'unica cosa che mangiava. C'era il miele. Il miele insieme al polline delle api è molto nutriente. Ho letto che in Medio Oriente, in Israele, ci sono i meropidi, uccelli che mangiano le api. Sono uccelli bellissimi, colorati come arcobaleni, uccelli bellissimi che prendono le api in aria. E se i meropidi trovano qualcuno che apre un alveare, non mangiano il miele ma le api. Ci sono vari luoghi nel mondo in cui gli esseri umani hanno sviluppato una relazione con i meropidi. I meropidi sanno dove sono gli alveari, portano le persone all'alveare, le persone affumicano l'alveare, lo aprono. I meropidi si mangiano le api e gli esseri umani si prendono l'alveare. La volta successiva che qualcuno cerca un alveare, il meropide gli vola vicino, si fa seguire e lo porta un alveare. Lo avete mai sentito prima d'ora? È incredibile, quindi sapete, per avere una buona scorta di miele e per sapere dove sono tutte le api, magari bisogna fare qualcosa del genere. Ma sono sicuro che mangiasse anche altre cose. Il motivo per cui dice che la sua alimentazione si basava su miele e locuste è per dire che aveva un'alimentazione molto semplice. Aveva abiti molto modesti, viveva una vita molto austera, non viveva in una bella casa, viveva nel deserto, probabilmente in un'abitazione molto semplice. Aveva una vita semplice e modesta perché non voleva che nessuno andasse da lui, voleva che la sua vita indirizzasse gli altri al figlio di Dio. Quindi vediamo nel suo comportamento che era un profeta molto impegnato, austero, dedicato. Vi viene in mente un altro profeta che si è vissuto nel deserto nutrito dagli animali. Elia fu nutrito dai corvi e aveva un'alimentazione molto semplice, sia quando fu presso il ruscello che presso la casa della vedova. Ci viene detto che visse una vita semplice. E cosa indossava Elia? Dice che indossava un mantello di pelo e una cintura di pelle. Quindi Giovanni Battista indossava le stesse cose. Ora, oggi non arriverò a dirvi tutto quello che volevo perché voglio rispettare i tempi. Questo sermone è come un trapano elettrico con la batteria a litio e mentre state trapanando si ferma. Non rallenta lentamente. dobbiamo ancora parlare del suo battesimo. Dobbiamo parlare del suo coraggio. Dobbiamo parlare della sua schiavitù. Perché Giovanni Battista ha passato delle prove impegnative. È stato in prigione per il suo coraggio e le sue predicazioni e si è chiesto se era stato abbandonato da Dio. Credo sia terribile passare da essere libero nella vita in quel modo nel deserto a essere in una prigione. E è il più grande tra i profeti. Magari concludo condividendo quel pensiero con voi. Cinque punti per cui Giovanni è chiamato il più grande tra i profeti. Gesù ha detto che nessuno nato da donna è stato più grande di Giovanni Battista. Luca 1,76. E tu, o piccolo bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Luca 1,44 annunciò Gesù dal grembo. Giovanni 1,6. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Giovanni è un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questo uomo è venuto per testimoniare, per dare testimonianza della luce, in modo che tutti attraverso di lui credessero. Non era lui la luce, ma fu mandato a portare testimonianza della luce. È una cosa che dovremmo fare. In Luca 7,28 Gesù lo dice in modo leggermente diverso, perché io vi dico che fra i nati di donna non vi è alcun profeta più grande di Giovanni Battista. In Luca 1,15, perché egli sarà grande davanti al Signore, perché Giovanni Battista era il più grande. Ok, concluderemo con questo. Uno, perché è stato profetizzato dai profeti. è l'unico profeta profetizzato da profeti, oltre a Gesù. Non solo parla, ma è anche quello di cui si parla. Due, perché ha avuto il privilegio di incarnare l'adempimento delle loro previsioni. La Bibbia dice, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Ora, chi pensate sia stato? Il più grande profeta dell'Antico Testamento, ve l'ho appena detto. Giovanni Battista. Pastore Doug, ho aperto il libro di Matteo. È il Nuovo Testamento. Il patto nuovo non è ancora iniziato. Vero? Quando è il nuovo patto? All'ultima cena, alla morte di Gesù, alla resurrezione. quando viene sigillato con il suo sangue. Giovanni, si può dire, è l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento. Capite cosa intendo? Perché è il ponte. Giovanni è il messaggero ponte tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Ma vive ancora il tempo dell'Antico Testamento. E dopo 400 anni di silenzio, parla improvvisamente e dice che sarebbe venuto il Messia. Stefano è il primo che viene ammazzato per aver predicato Gesù. Stefano fu il primo martire dopo la croce, ma Stefano non fu il primo ucciso per aver predicato di Gesù. Giovanni Battista fu ucciso per aver predicato di Gesù. Punto numero 4. Dice che tutta la Giudea e la Galilea stavano ad ascoltare le sue prediche. Probabilmente è uno degli evangelisti più di successo e ha battezzato migliaia di persone. Quindi è grande in questo senso. Fa nascere un grande risveglio. È l'unico nella Bibbia che ha portato un risveglio più grande rispetto a Giona, che aveva convertito una città intera. Ma il cuore di Giona non era concentrato su questo. Quindi Giovanni Battista fu uno dei più grandi predicatori di successo. A proposito, il suo arresto e la sua esecuzione sono stati citati anche da Giuseppe Flavio. E anche altri storici hanno parlato di Giovanni. Giovanni è un personaggio storico reale. Sapete che nella storia ci sono più dati su Giovanni Battista che su Alessandro Magno. Ma c'è chi dubita di Giovanni Battista. Come puoi dire che è stato il profeta più grande, pastore Doug? Non ha mai fatto un miracolo. Non ha scritto nessun libro. Ci sono i libri di Isaia, Geremia, Ezechiele, grandi profeti. Ma lui non ha scritto un libro. Non ha fatto nessun miracolo. È il più grande tra i profeti perché ha introdotto il Messia. È il più grande. Tutti gli altri profeti avrebbero voluto scambiare posto con Giovanni per poter dire ecco l'agnello di Dio, eccolo, posare le mani su di lui e poterlo battezzare. Infine, e questo viene dopo, viene martirizzato per Gesù. È il profeta centrale tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Beh, amici, questo è il messaggio della Bibbia. Giovanni è venuto per preparare la via al Signore per la prima venuta. Voi e io abbiamo un compito, preparare la via del Signore per la seconda venuta. Giovanni, per farlo, ha passato delle difficoltà. È stato alla fine messo in prigione. Ma è rimasto fedele. Anche noi magari avremo delle prove nel futuro che ci aspetta per aver condiviso la buona novella, ma vogliamo rimanere fedeli, vogliamo imparare da Giovanni. Amen. Signore amorevole, ti ringraziamo per la lezione della tua parola su questo profeta potente, uno che però è così umile che ha avuto il privilegio di annunciare la tua prima venuta. E, Signore, ti preghiamo ora che si avvicina il giorno della tua seconda venuta di imparare dall'esempio di Giovanni e vivere una vita di dedicazione, santità e consacrazione in modo da poter essere d'aiuto nel preparare la via per il tuo ritorno a breve. Ti prego di benedire ciascuno, Signore, e di stare con noi in questo giorno di sabato. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.